Ed eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti ad hashtag la consulenza non si ferma con qualche secondo di ritardo perché abbiamo cercato di risolvere un problema tecnico ma sembra che questa volta LinkedIn abbia voglia di non trasmettere lo streaming, questo mi dispiace tantissimo per coloro i quali si saranno collegati e avranno cercato probabilmente la trasmissione, adesso speriamo di riuscire a risolvere però non è la prima volta, lo abbiamo visto in tante situazioni, in tanti momenti che LinkedIn con questa sua diciamo struttura di beta nell'andare a fare, a permettere appunto il flusso di trasmissioni, vedete che sono anche io stesso un po' agitato ma capita anche a chi ormai dovrebbe essere avvenuto a fare questa cosa e quindi stiamo intanto trasmettendo su Facebook però questo non ci limiterà nella trasmissione soprattutto perché abbiamo un ospite super ma prima di tutto sigla e vi dicevo siamo qui qui in diretta e tra l'altro devo purtroppo darvi un annuncio il fatto che Luciano questa sera non è qui con me perché ha avuto un problema personale nulla di grave, sarà con noi la prossima settimana e quindi condurrò la puntata da solo e devo dirvi che un po' mi dispiace perché ormai mi ero abituato alla spalla di Luciano eccetera però lo saluto e oh Luciano ci vediamo la prossima settimana. questa sera come vi anticipavo abbiamo un ospite veramente di riguardo anzi sono particolarmente felice di averlo qui in trasmissione e vado subito a presentarvelo senza tanti preamboli perché è qui ad hashtag la consulenza non si ferma Marco Loconte voilà eccoci caro Marco buongiorno ciao a tutti buona serata allora devi sapere caro Marco che sono particolarmente felice di averti di averti qui in trasmissione perché ridendo e scherzando noi ci rincorriamo da quasi praticamente due anni perché ce l'abbiamo fatta dai però ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa è la cosa è la cosa più bella tra l'altro averti qui in trasmissione tra l'altro in un momento immediatamente successivo a quello che abbiamo vissuto del covid dove tu peraltro con i soli 24 ore come social media editor di fatto hai raccontato anche tutto quello che è stato il covid infatti tu andavi in diretta su linkedin all'ora di pranzo anche non solo insomma voglio dire averti qui è veramente un grandissimo piacere tra l'altro altra cosa che io ho scoperto poi preparando la puntata che ci accomuna anche questa grande passione per la musica oltre al fatto che voglio dire sei un ottimo giornalista bravissimo giornalista e quindi suoni il basso nella band ma qui ti faccio la solita battuta che facevo a tutti quanti ma tu ricevi lo stesso cachet dei chitarristi visto che hai due ai due cordi in meno guarda il cachet è unico è bello tondo è famoso zero noi suoniamo per beneficenza quindi sono più le spese che altro noi prendiamo le magliette ora abbiamo le mascherine le mettiamo in vendita diciamo così non vendiamo raccogliamo fondi noi elargiamo il gadget e la gente il popolo ebro di gioia per questa cosa fa la donazione quindi noi anticipiamo i soldi e finiamo di anticiparli questo è il compenso lo stesso è la dura vita del rocker abbiamo grandi annunci poi ne parliamo magari esatto come dicevano gli sdc it's a long way to the top if you want to rock and roll una cosa del genere va bene allora senti tu hai raccontato praticamente un po' durante il covid è stato particolarmente presente anche sia nelle live del sole 24 ore e anche in altri ambiti come hai vissuto il periodo del covid marco e come 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 uomo come persona mi interessa e poi anche come giornalista ma allora certo non ti nascondo con paura perché perché la pandemia è questa roba qui dura pesante insomma l'abbiamo sottovalutato forse un po' tutte all'inizio e adesso la stiamo sottovalutando ancora anche per esperienza personale per persone che ho conosciuto che si sono ammalate pure tardi devo dire che per quanto possiamo tirare un sospiro di sollievo in questa fase perché vediamo i numeri scendere anche se ogni tanto c'è qualche rimbalzo nei numeri però sono persone ciascuno di quei numeri si riferisce a una persona e finirà finirà ma quando finirà ci sarà l'ultima persona malata l'ultima persona deciduta purtroppo è non sarà consolante sapere per quelle persone essere gli ultimi perché in questi ultimi giorni si parla anche i festeggiamenti a napoli no è naturale è comprensibile sì però il coronavirus non guarda in faccia nessuno non conosce motivazioni quando ci si ammala purtroppo questo è un virus che colpisce veramente duro e ed è molto pericoloso purtroppo così c'è poco da fare non c'è dibattito discussione democrazia non si può discutere più di tanto c'è un problema molto grosso e va affrontato nel modo giusto sperando legittimamente però guardando in faccia la realtà certo senti e invece dal punto di vista giornalistico come è stata perché immagino che sia stata un'esperienza comunque molto molto particolare è accomunabile ad altre esperienze che hai vissuto nel passato di situazioni particolari beh allora in qualche modo simile forse all 11 settembre nel senso che anche se lì c'è stato il grande evento e poi mesi no di approfondimento abbiamo fatto a radio quando ero a radio 24 una breaking news unica da l'11 settembre fino a natale praticamente abbiamo fatto tutto dedicato a quello che stava accadendo eccetera per cui qui è stato meno cioè c'è stato un po no per capire quale fosse il problema però lì abbiamo mollato tutto quello che stavamo facendo e anch'io mi sono messo in diretta raccontare cose che francamente dico con chiarezza non sono mai stato né medico né esperto in in materia quindi ho dovuto studiare approfondire conoscere capire per raccontare è stato professionalmente come sempre in questi casi molto interessante perché ci si mette gioco e quindi si lasciano da parte alcune cose che non funzionano quantomeno secondari e ci si approfondisce si approfondiscono delle cose che invece risultano fondamentali poi ho la fortuna appunto di lavorare per il sole 24 ore che necessariamente come dire ha osservato con attenzione non solo il merito di tipo sanitario insomma la vicenda dal punto di vista sanitario i contagi quant'altro ma anche tutte le ripercussioni nella nostra vita quotidiana diciamo economica ma siamo esseri economici attori economici quindi dal risparmio dalla finanza al fisco a tutto ciò che è il mondo della produzione fino ad oggi ne stiamo parlando con con attenzione adesso stiamo cambiando passo abbiamo fatto il sole risponde per mesi per raccontare e dare risposte ai grandi quesiti che tutti avevano in mente in relazione alle ripercussioni del coronavirus nella nostra vita quotidiana ora stiamo lanciando altri altre diciamo parole chiave tra poco qualcosa già trovate in rete ma tra poco partiremo con altre dirette molto interessanti per capire la fase 2 la fase 3 come può essere messa sui binari giusti certo e invece facendo parte di una grande testata giornalistica come quella del sole il sole tutto di vista come si è adeguato come ha modificato anche la sua offerta proprio la luce del colpo in merito molti dicono che ci sia un avanti covid e un dopo covid per esempio per quel che riguarda il mondo della consulenza finanziaria e così anche per il giornalismo vabbè abbiamo scoperto tutti che si poteva non essere tutti insieme in una stanza per prendere una decisione ma potevamo essere a distanza e collegati da zoom a go to webinar a skype in tutti i modi possibili abbiamo sdoganato certo chiamarlo smart working forse troppo però un lavoro a distanza che sembrava tabù e di fatto riusciamo a fare il giornale e quelle in redazione c'è una decina di persone al giorno non di più quindi potete immaginare diciamo così un ventesimo della redazione della forza redazionale è presente tutti gli altri lavorano a distanza e le cose si riescono a fare è un punto di non ritorno sì importante anche se chiaramente il brainstorming che si fa di presenza è un valore non trascurabile da considerare sì un po come nella nella consulenza forse prima l'idea di collegarsi con un telefonino no col proprio consulente per fare il punto della situazione sembrava no la stretta di mano la stretta di mano la stretta di mano adesso la stretta di mano non c'è più cioè non ci si può stringere la mano bene che vada il gomito però anche quello cioè si va un po' più al sodo si lasciano da parte le cose che si possono trascurare e si guarda il merito il che è anche un vantaggio perché vuol dire che la nostra mente può concentrarsi meglio in questo caso per quanto riguarda risparmio investimenti e consulenza nel merito dei numeri e dei comportamenti ripeto non è male senti tu sei approdato nel 2005 a parlare di risparmio previdenza su plus nella repubblica i soldi in testa quindi voglio dire stiamo parlando ritendendo di aiutami siamo 15 anni anni esatto la velocità con cui le cose cambiano in 15 anni sono tantissime come si è evoluta dal tuo punto di vista che è un osservatorio assolutamente privilegiato e come si è evoluta la consulenza finanziaria secondo te in questi ultimi 15 anni beh prima di quel 2005 io avevo altri sei anni di radio 24 in cui grande esperienza di focus economia di salvadanaio sui temi della finanza dicevo l'11 settembre insomma abbiamo lavorato molto ecco tra ecco facciamo tre tappe no in salvadanaio 99 con la nascita di radio 24 lì era ricordo discussioni con gli ospiti sembrava impensabile che una rete di consulenti finanziari i promotori finanziari come venivano chiamati all'epoca potesse collocare attraverso il proprio propria forza sul territorio prodotti di terzi era quasi un era una petizione di principio chissà se un giorno vedremo in realtà poi il mondo è a corso e veloce più veloce di quanto diciamo l'industria forse volesse e fosse preparata probabilmente già quando sono approdato plus mi ricordo un grosso lavoro che abbiamo fatto anche sull'implementazione della mifid che tra i vari temi ha ha messo nero su bianco la tutela del risparmiatore del cliente finale come il centro di tutto il il discorso è chiaro che anche lì la petizione di principio sulla della normativa europea ha trovato molte difficoltà a rendersi concreta nella vita quotidiana dei paesi comunitari dell'italia in particolare ancora oggi se avete letto su plus l'ultimo numero il tema del dei micro regalini che si fanno ai consulenti finanziari un tema che ancora chiaramente quando vuoi normare tutto poi devi dirmi no devi dirmi proprio se le scarpe che qualcuno mi vuole regalare hanno i lacci oppure devono essere mogassini chiaramente siamo un po a quelle normative un po eccessive però però c'è comunque il tema della della tutela dell'investitore che resta resta centrale questo non è male certo tu hai accennato correttamente alla mifid che tenta e di diciamo di correggere una simetria informativa io faccio sempre questo esempio durante la mia formazione prima della mifid se io e Brad Pitt ci fossimo messi dietro a una finestra a vetri probabilmente ce la giocavamo perché mi avrebbero scambiato per Bradley Cooper purtroppo la mifid ha cambiato il vetro e a quel punto tutte le signore guarderebbero Brad Pitt lo dico anche nella speranza che qualcuno mi dica ma no dai tutto sommato non sei così malaccio non abbatterti però al di là della battuta obiettivamente parlando questa simmetria informativa c'è stata e diciamo che c'è ancora perché da questo punto di vista mifid secondo me non si è ancora completata e secondo me sbagliando anche da un lato c'è un timore da parte di consulenti perché obiettivamente parlando forse è lì che verranno fuori veramente il merito anche del consulente non credi? beh sì credo proprio di sì ma sotto certi aspetti mifid 2 ha fatto ha migliorato una fetta di mercato nel senso che chi lavorava bene lavora ancora meglio la qualità del servizio offerto lo ha reso più percepibile questa qualità diciamo che il problema è che una fetta molto importante del mercato è rimasta un po' indietro si potrebbe dire che la piramide sia un po' irripedita con una massa ridotta di ottimi consulenti con però ampie fasce di popolazione che sono state escluse negli anni c'è stato un processo molto lungo ma da una qualcosa di simile anche della consulenza perché allo sportello bancario capite bene che oggi come oggi ottenere anche un facsimile di consulenza è diventato un problema c'è un atteggiamento insomma molto più da collocamento ma non per colpa del bancario perché il bancario ha molte urgenze insomma noi abbiamo scritto tante volte del tema del mal di budget tra l'incudio e il martello è chiaro che è una situazione molto delicata però è un fatto che diciamo si è un po' allungato il plotone con quelli bravi bravi anche sempre più bravi ma minoritari rispetto al bacino complessivo del risparmiatore e ne riprova l'indagine della Consob non un'opinione dell'ultimo che passa ma la Consob ha registrato come l'82% dei clienti della consulenza anche tra i migliori quindi non ha la percezione di come viene rimurelato il proprio consulente il che la dice lunga sul fatto che chiaramente questa simmetria informativa credo che sia strutturale che non possa essere come dire scardinata può essere al limite corretta o quantomeno controbilanciata da una serie di fattori però è strutturale al mercato il nostro è un mercato dominato dall'offerta e governato dall'offerta c'è poco da fare e quali potrebbero essere soluzioni? la soluzione inglese per esempio potrebbe essere una via percorribile secondo te qua in Italia? beh allora ci sono tanti modelli nel mondo è chiaro che nel mondo anglosassone c'è concorrenza tra gestori e concorrenza tra consulenti quindi raramente il gestore fa capo, cioè gestori e consulenti fanno parte della stessa rete quindi mentre la cosa che da noi invece è la parte preponderante del mercato ogni modello ha i suoi lati positivi e negativi, rischi e opportunità, vantaggi e svantaggi quindi vediamo le cose laicamente, non esiste la verità in tasca da tirar fuori sicuramente ci potrebbero essere da una parte, per me di default è necessaria una campagna di educazione finanziaria nazionale massiva per tutta la popolazione, secondo me per un paese civile che demanda al comportamento dei singoli alcune scelte fondamentali per il benessere individuale e collettivo beh è inevitabile che dare gli strumenti a queste persone per prendere decisioni pensate cosa sta significando la riduzione del tasso di sostituzione dal punto di vista previdenziale per ampie fasce di popolazioni prenderanno meno soldi e non gli si dice come compensare questo calo ed è un problema estremamente grosso che si andrà a fare ma dalla previdenza il discorso può essere fatto a tutto il resto del portafoglio ci vuole, non è neanche da mettersi a discutere la necessità di un piano di alfabetizzazione finanziaria importante poi ci possono essere per esempio degli incentivi magari di natura fiscale sulla scia di altre cose che sono state pensate in campo per esempio dei PIR eccetera il problema è che nella costruzione di una nuova normativa la rappresentazione agli organi legislativi viene fatta da soggetti che sono portatori di interessi e i portatori di interessi lato risparmiatori non hanno la forza dell'industria finanziaria non sono alcune associazioni di consumatori che hanno la capacità, la forza purtroppo diciamo ma di proporre un articolato in grado di realizzare questo obiettivo che non sia per esempio che non trovi degli anticorpi in sede legislativa importante certo qui ti faccio una domanda questa è una trasmissione che è seguita da consulenti finanziari si dice sempre, allora in 30 anni di fatto circa di esistenza della consulenza in un certo modo perché sappiamo che la consulenza finanziaria comincia in Italia addirittura a fare capolino alla fine degli anni 60 però in realtà il grande boom è cominciato dagli anni 80 strada ne è stata fatta però continua il mondo della consulenza finanziaria avere una quota di mercato di circa il 15% e pensando a come i consulenti finanziari per esempio servono i clienti io dico non c'è mai, non c'è una ragione razionale se posso dirla così perché un cliente non abbia un interlocutore come il consulente finanziario eppure perché continua la quota di mercato ad essere ancora troppo piccola rispetto alla quota delle banche tradizionali secondo te? per molti fattori intanto se ci pensi come si sceglie un consulente finanziario e si sceglie veramente? di solito cosa succede? il vicino di casa, il parente, l'amico quale consulente finanziario viene scelto tra altri consulenti finanziari? vero c'è una piattaforma dove andarli a trovare? qualcosa qualche iniziativa è stata fatta ma che cosa insomma quale occasione di engagement c'è per far scoccare la scintilla? per esempio il mese dell'educazione finanziaria può essere un'occasione può essere un'occasione anche lì non è facile perché raggiungere ampie fasce di popolazione non servita dalla consulenza non è agevole noi come solo 24 ore ameremmo stampare e vendere quanto più possibile è in tutta evidenza purtroppo non ce la facciamo non riusciamo a essere così pervasivi né lato carta stampata ma neanche su internet nonostante appunto si diceva cosa ha cambiato il coronavirus abbiamo moltiplicato il numero di utenti unici abbiamo fatto più 210% a marzo più 145% ad aprile stiamo andando benissimo siamo felici e tutto però possiamo arrivare ovunque anche se ci piacerebbe il punto è manca manca proprio il contesto che crei l'engagement l'anello di congiunzione di contatto tra domanda e offerta e questo sicuramente è un tema è un tema molto grosso perché diciamo se lasci fare troppo al mercato al mercato tra virgolette casuale poi il rischio è di lasciare sempre un'area di fiducia irrelata nella relazione tra cliente e consulente che rischia che può essere anche un foriolo di rischi cioè il mi fido mi piace quella persona abita nella scala a fianco è il cugino di di un parente e quindi mi fido e quindi non ci penso alla fine evito anche di approfondire a un livello adeguato la conoscenza di quello che accade al mio denaro questo è un problema un problema di inconsapevolezza che è molto molto sentito e che certamente teoricamente la MIFID dovrebbe spazzare ma purtroppo non è così facile purtroppo no immagino senti qui abbiamo avuto anche in trasmissione sia Massimo Scolari che Luca Mainò che rappresentano un po' l'altra parte del cielo che è ancora una parte piccola in Italia che è appunto quella della consulenza cosiddetta autonoma no? in questo caso ci sarà un futuro secondo te per la consulenza a parcella qui in Italia cioè mi spiego meglio è un tema perché il mercato non è pronto oppure il mercato non è pronto perché fondamentalmente è il settore che non ci crede perché secondo me il mercato è pronto sta già pagando delle parcelle in giro agli avvocati ai dottori commercialisti eccetera perché per esempio potrebbe essere o non potrebbe essere disposto a pagare una parcella ad un consulente finanziario sai il mercato è sempre pronto cioè il mercato è sempre alienato con se stesso quello che non è pronto quello che non era pronto tanti anni fa come ti raccontavo quando conducevo Salvadanaio Radio 24 quando è stata implementata la Mifed non è pronta l'industria l'industria che rappresenta la fetta preponderante della consulenza parlo delle reti no? è evidente che ha tutto l'interesse a evitare lo ha sempre avuto e continua ad averlo a evitare una crescita della consulenza che una volta era indipendente adesso autonoma e quindi c'è un ci sono state tante azioni di disturbo è evidente che non è semplice veicolare un certo tipo di proposta la value proposition è più complessa no? nella consulenza autonoma perché il consulente ha abilitato l'offerta fuori fede fuori fuori sede chiedo scusa la del lapsus proprio ma è evidente che può tenere nascosta la quantomeno può evitare di evidenziare in maniera plateale la sua parcella perché la struttura commissionale è proprio costruita in questo modo di fatto poi è chiaro ci sono state ci sono stati tanti passi in avanti dall'obbligo ad alcune iniziative di molte reti che hanno fatto hanno proposto appunto una formula di consulenza parcella più struttura commissionale tradizionale diciamo così però sono due mondi in effetti abbastanza inconciliabili anche perché poi la consulenza autonoma non può che sposarsi con un'attività di brokeraggio diciamo così che non è come dire alla portata di tutti anche se quasi tutti coloro i quali hanno un conto online potrebbero una volta aperto il conto titoli acquistare direttamente un etf sulle piattaforme sarebbe veramente è assolutamente facile però manca la cultura per farlo diciamo che l'industria tiene un po' sotto scacco la consulenza autonoma e frena l'evoluzione è un po' la battaglia di retroguardia come lo Stato in tanti in questi ultimi decenni continua in qualche modo a esserlo però insomma ci sono state un po' di polemica anche nel recente passato no? sì assolutamente devo dire le puntate più al calore sono state quando c'era scolari e c'era Luca Mainò in termini proprio anche di ribollir di chat come si suol dire no? se posso aggiungere il presidente della Consob Paolo Savona è scappato di dire l'altro anno che lui è cliente di consulenti indipendenti per chi vigila i consulenti abilitati all'offerta fuorisede non è male però chiaramente questo non basta in qualche modo a dare come dire a riposizionare il mercato evidentemente certo senti adesso mi dispiace che non ci sia Luciano perché queste sarebbero state domande assolutamente sue ma io le farò immeritatamente te le pongo perché poi è un tema che lui ha studiato e studia tuttora allora qual è il bias che impatta di più secondo te lato consulente nella relazione consulente finanziario cliente e beh insomma ce n'è tanti i bias le trappole cognitive che ci condizionano sono tante ognuno c'ha la sua ognuno c'ha la sua medaglietta che è più o meno spiccata anche se poi tutti siamo in qualche modo vittime di tutti i bias perché è un'avversione alle perdite ma chi è che vuole perdere è evidente che lo si può mettere in gioco lo si può controllare si può controllare questa formula questa forma di 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 trappola cognitiva è evidente che diciamo il il bias più pernicioso è l'overconfidence per il consulente finanziario cioè l'idea di saperla lunga di essere di di avere percezione di avere un grande controllo della situazione già chiaramente chi fa questo lavoro in genere è un autonoma è uno che conta su se stesso quindi in genere ha una discreta fiducia in se stessa costruita o spontanea o costruita nel tempo per cui è inevitabile ed è anche giusto che sia così perché bisogna essere convinti di quello che si fa e questo è un lavoro molto molto delicato importante e quindi insomma va fatto con grande scrupolo e bisogna crederci crederci tanto crederci troppo credere troppo in se stessi beh può essere un problema un problema no? in certe situazioni diciamo estreme patologiche forse come dire è il controaltare del per il risparmiatore il bias del risparmiatore diciamo l'under confidence quello di ritenere di non saperne abbastanza e di farsi sentirsi un pochettino di fronte ai termini altisonanti ai termini tecnici inglesi eccetera sentirsi un po' fantozzi mentre è naturale non tutto possiamo sapere è inevitabile il punto è che nella nostra cultura nella nostra storia nei nostri background in realtà ci sono i germi di una capacità di risparmiare di investire in maniera adeguata cioè la cultura contadina che ci hanno tramandato i nostri genitori e i nostri nonni quello di mettere da parte nei periodi buoni perché potrebbero arrivare i periodi cattivi nel non mettere tutte le uova nello stesso paniere non fidarsi di chi non sono tutti i germi di una buona consulenza di un buon approccio sano con il risparmio e l'investimento è chiaro che però arriva uno con cravattone e quattro parole inglese che ci mette un attimino seduti e gli si fa come però bisognerebbe evitare insomma di di farsi di sentirsi un po' fantozzi perché lo dico io lo ripeto sempre i soldi sono di chi li ha anche con un consulente la responsabilità finale è sempre di chi i soldi li ha del risparmiatore dell'investitore e quindi deve sapere tutto per fidarsi per dare la propria fiducia il proprio denaro a qualcuno o quantomeno a investirlo secondo il consiglio di qualcuno non si può demandare ecco il concetto di delega per esempio è un grosso problema uno degli altri adesso sto vagando ti sto rubando tempo però uno dei bias perniciosi è l'emulazione perché colpisce soprattutto chi non ha una grande competenza sentire una persona di cui ci si fida che quello ha fatto così e ci crede magari gli è andata anche bene è una roba che rimane molto forte perché quando credi a qualcuno o quantomeno stimi una persona si è portato a rispecchiarti molto no? perché le celebrities fanno pubblicità perché no? quello che compra Chiara Ferragni è oro no? chi non vorrebbe no? ma un calciatore no? un chiunque è così è un meccanismo psicologico in cui di cui più o meno tutti siamo in qualche modo vittime o soggetti quindi però ecco una buona consulenza finanziaria dovrebbe dire non fare quello che quello che fanno gli altri fai quello che tu devi ritenere giusto perché se no non fai bene a te stesso tutto qua guarda su questa cosa qui voglio provare so già di addentrarmi in un terreno in un terreno minato però spero di di dire questa cosa in modo tale che si comprenda allora io vengo io sono di origine veneta sono sono padovano e sappiamo quanto negli ultimi anni purtroppo tutta la zona sia stata letteralmente devastata dai grossi problemi di due banche che non citiamo qui per non avere però che hanno creato non pochi problemi però la domanda che mi faccio è anche questa e qui si innesta in un bias vorrei dire nel carattere nazionale che purtroppo è un carattere un po' particolare dove comincia e dove finisce la volontà praticamente dell'istituto bancario di tra virgolette frodare il risparmiatore e dove tutto sommato sta anche un po' ne tipicamente nel cliente italiano il fatto tra virgolette è che se se mi stanno vendendo questa cosa che è particolarmente come ti posso dire interessante magari la prendo mi ricordo sempre citato da un mio caro amico un detto ebraico che dice è impossibile truffare un uomo onesto perché se è onesto di per sé non si fa truffare si deve essere onesto con se stesso perché il vero truffatore cioè chi si fa truffare è un truffatore perché truffa se stesso e noi adesso divago ma fino a un certo punto noi citavi la nostra congrega musicale chiamiamo il chapter 11 potete ben capire però scriviamo alla milanese chapter 11 noi abbiamo questa canzone che è diventato un programma radiofonico che ora ad agosto torna che si chiama Serpente Corallo cos'è il serpente corallo? è il truffatore è qualcuno che ci si presenta carino colorato grazioso e poi ci mozzica sulla mano come raccontiamo e quindi raccontiamo di tutte le fregature cui andiamo incontro in realtà chi offre il destro al truffatore ne è in qualche modo corresponsabile chiaro adesso non dobbiamo infierire il concetto però prima citavamo i bias ecco in certi territori l'on bias l'emulazione l'over confidence sono tutti fattori che hanno contribuito a far sì che in certe aree geografiche italiane la vicinanza tra l'istituto bancario storico per quell'area e la cittadinanza abbia fatto cadere una serie di scrupoli di attenzioni razionali diremmo così o precauzionali che invece erano necessari e quindi insomma tutti vanno dal tipo che gli dà il 3% invece che il 2% che invece l'1% e ci vado anch'io perché devo essere da meno e quindi senza pensare perché ti dà di più di interesse rispetto ad un altro e perché quel titolo che rende di meno è quotato e quello che ti offro non è quotato e se non è quotato che cosa succede no? e quindi sono tutti meccanismi mentali in cui uno casca poi si rammarica però il punto è per ciascuno di noi essere un po' più solidi no? evitare che il serpente corallo insomma di attirarlo con la nostra guardia bassa e evitare appunto di incentivarlo perché poi più più vulnerabilità c'è e più i serpenti corali i truffatori o quantomeno poi c'è tutta una gradazione non c'è adesso sto parlando di truffa come estremizzazione però anche un'industria finanziaria che tiene i costi alti più alti che negli altri paesi europei beh insomma lo si fa perché c'è una minore consapevolezza in Italia della forza e del ruolo anche che il lato della domanda di strumenti e di prodotti finanziari c'è perché consumatori finanziari più avveduti e beh trattano sul prezzo e trovano anche la possibilità di ottenere dei sconti volendo mettendoci se uno neanche se uno si fide basta capite bene che purtroppo è così io con grande rispetto per chi fa il lavoro del consulente c'è però un'impalcatura che induce a una serie di comportamenti e quindi poi sta al singolo mostrare come dire un'attitudine comportamenti e anche un approccio differente rispetto a quello più rapace diciamo così ecco certo certamente e veniamo a un altro tema che secondo me è molto molto importante non prendo querele dici che me la cavo ma assolutamente esagerato no 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 assolutamente vediamo un altro tema perché tu hai fatto un passaggio molto importante prima dicevi c'è un tema di educazione finanziaria perché poi alla fine pensiamo tutto il problema previdenziale ok e quindi necessariamente dobbiamo immaginare sempre di più di programmare ok gli obiettivi di vita e qui entriamo nel tema della vera e propria pianificazione finanziaria no perché in Italia si parla tanto di pianificazione finanziaria ma in realtà se ne pratica molto ma molto poca a differenza dei paesi anglosassoni eh perché 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 appunto la consulenza finanziaria è prerogativa di pochi di fatto non è una cosa mass market e come dicevo prima chiaramente cioè diciamo che la platea di riferimento non si sta ampliando più di tanto soprattutto quella di qualità però ecco magari agganciandoci quanto ci dicevamo prima cosa come può cambiare quali possono essere soluzioni in realtà alle viste un grande cambiamento c'è ed è evidente anche dalla modalità con cui siamo collegati la tecnologia può fare veramente tantissimo anche lì il coronavirus ci ha spiegato che consulente e cliente possono anche dialogare su una piattaforma digitale ogni tanto non è un tabù non è un grosso problema nessuno spierà in maniera per vedere i miei 10.000 euro chissà che fine fanno insomma voglio sperare però il punto non è tanto quello il punto è che ormai la tecnologia va molto veloce e sta già proponendo al mercato degli strumenti di gestione automatica semiautomatica robot advisor tantissimo che è veramente ancora agli esordi e che potrà fare grandissimi passi in avanti nel prossimo futuro pensate a i millennial ossia diciamo così tutte le persone che hanno tra i 25 e i 40 anni e che sono i destinatari dei patrimoni di chi ha vissuto il boom economico negli anni 60 e che presto o tardi trasferisce queste ricchezze in mano a loro è una può essere come dire una platea di riferimento molto importante per i consulenti finanziari ma anche visto che molto spesso i millennial nativi digitali o giù di lì hanno una freschezza una capacità di gestire la tecnologia molto spiccata insomma ma perché se trovo un buon strumento digitale devo invece pagare cinque volte tanto per come dire per avere altrettanta qualità non lo so intanto se faccio da solo con uno strumento digitale capisco intanto quello che faccio io non ho il problema della fiducia che è sempre un'arma a doppio taglio la persona chiaramente di solito è così il mercato schiaccia diciamo così verso il basso i costi poi ci sarà sempre una consulenza di alto livello rimarrà così c'è una polarizzazione una polarizzazione tra la qualità eccellente remunerata per quella che è anche tanto anche di più di adesso si vede sarebbe comunque legittimo lo sottolineo e invece un mass market comunque un mercato molto più ampio in cui anche grazie a strumenti digitali sarà possibile costruire un percorso una vera e propria pianificazione non è così difficile basta così ci siamo scritti e ho detto ok accetto il tuo invito era comparso subito nel mio calendario questo invito se la la pianificazione può essere analoga le scadenze in uscita le decisioni in entrata basta un punto dell'assituto un'oretta ogni tre mesi e la mia pianificazione di breve medio termine è fatta una volta all'anno guardo la previdenza e pianifico per i prossimi dieci anni veramente dove si clicca cioè veramente è facile tra virgolette dal punto di vista tecnologico si tratta di implementare il meccanismo più user friendly e meglio veicolato da chi dell'industria vorrà proporre il fatto stesso che Vanguard tanto per dire parlare di marchi si è entrato nel mercato italiano adesso adesso gli ultimi due anni diciamo così è un'indicazione molto importante di come si possono utilizzare quegli strumenti anche senza aver bisogno di una rete distributiva evoluta e non sto parlando di un piccolo player ma di quello che di fatto ha cambiato il mercato negli Stati Uniti negli ultimi decenni direi si direbbe un game changer assolutamente però qui vedi già questa cosa qui sta cominciando a far ribollire un po' i tini delle chat perché allora ci sono Silvio Guerrero che dice la consulenza è vista dai più come rendimento e non programmazione di cicli di vita e qui bisognerebbe capire se è un tema nel caso specifico di cultura italiana che è magari più fissata sul passato che non sul futuro cosa ne pensi? ah sì beh Marco noi non siamo affacciati un granché sul futuro noi siamo un paese un po' conservatore ma forse anche abbastanza inevitabile l'Italia è un paese affacciato su un passato straordinario basta muoversi per Roma per il centro di Roma è evidente che per qualsiasi città italiana il proprio centro storico abbiamo vestigie antiche meravigliose bellissime noi si trasudiamo di quello che abbiamo visto siamo cresciuti tra chiese del 500 o a poche centinaia di casa mia c'è una chiesettina del 1100 che sta in uno sparti traffico dove ora stanno facendo i lavori della metropolitana e la prima cosa che hanno fatto è mettere in sicurezza questa chiesettina del 1100 che sarà di 15 metri quadri grande ma è una stupidata se volete però è evidente che noi abbiamo il passato come benchmark e tutte le volte che dobbiamo raccontare qualcosa abbiamo una dinamica storica prima era così adesso è così è inevitabile ma lo stesso storicismo adesso divago la croce gentile ma è inevitabile hanno strutturato il loro pensiero perché noi abbiamo un passato che è fatto che ha dato un imprinting fortissimo alla nostra realtà per cui è chiaro che se fai nei paesi anglosassani l'idea che una cosa un palazzo sia più antico di cent'anni è forse in Inghilterra ancora ancora no ma negli Stati Uniti che un palazzo abbia cent'anni è qualcosa che stupisce molto no è chiaro che è un mondo nuovo insomma è inevitabile o se vai in Cina in tante grandi megalopoli sulla costa cinese se vai a parlare di una vestigia antica c'è la muraglia però insomma fianco le parole no è abbastanza inevitabile noi abbiamo un imprinting culturale che è questo ed è difficile smarcarci anche se siamo un paese comunque voluto industrializzato l'idea della start up è un'idea che ha attecchito però è chiaro con difficoltà maggiori non solo burocratiche ma anche di preparazione pensate all'approccio delle donne alle materie STEM che non è quello di altri paesi europei pensate alla difficoltà di reperire finanziamenti per le start up per piccole idee imprenditoriali che magari non diventeranno Facebook e Google ma potrebbero comunque partecipare per esempio ho conosciuto tre ragazzi del Politecnico lavorano con Elon Musk per gli ammortizzatori dell'Hyperloop no sono riusciti a ottenere finanziamento ma tanti di loro invece non riescono in nessun modo questo è chiaramente uno slancio che per un paese come il nostro un po' fermo per molte ragioni beh insomma è ossigeno perché insomma il futuro lo vogliamo costruire o no lo vogliamo mettere a disposizione dei nostri figli oppure vogliamo soltanto dare loro il debito pubblico come regalo mi sa che sono di là e mi sa che me lo tirano dietro senti Bruno Linguanti ti dice allora basta un buono strumento digitale per sostituire un consulente finanziario e Silvio Guerriero aggiunge algoritmo ed essere umano che gestisce le emozioni sono la stessa cosa? non sono la stessa cosa ma siamo in grado di gestire le emozioni è una sfida io non dico non sto sostenendo che un robo-advisor sia più bravo e migliore di un consulente in carne ed ossa dico che è una sfida è una sfida che va accolta che anzi ritengo che un consulente possa vincere ampiamente perché non solo per diciamo un'intelligenza emotiva che si può mettere in campo e che quindi ti consente di andare ben oltre il calcolo ma anche perché un pensiero più laterale più onnicomprensivo della persona è evidente che dà un valore aggiunto e poi di fatto un robo-advisor è un algoritmo chi tira fuori è quello che gli dai dentro e quello che gli dai dentro glielo dà sempre una persona un essere umano ma è un numero limitato di informazioni ripeto è una sfida è una sfida che non si può non non cogliere così come 15 anni fa no forse un po' di più fanno di pensare 20-25 anni fa si è iniziato a dire che si poteva operare in banca online no? e sembrava anche quello quasi un tabù l'idea di fare un bonifico o di spostare del denaro o di avere l'estratto conto dal computer non dal telefonino no ancora però da un computer password la sicurezza sono passati degli anni oggi anzi dal computer è più difficile perché devi dare l'ok dal telefonino perché lì che c'è la tua impronta digitale quindi è così il mondo va avanti il mondo va avanti dobbiamo capire se stare dalla parte del freno dall'acceleratore o dalla frizione dobbiamo solo decidere probabilmente probabilmente cerco di spezzare ma perché poi ovviamente voglio un bene dell'anima a tutti quanti loro probabilmente dovranno farlo sarà possibile vincere questa sfida ovviamente non mettendo in campo le competenze accumulate fino adesso ma ovviamente mettendo mano alle competenze alle competenze nuove nel senso che sono appunto altre cioè quello che è stato sufficiente fino ad ora oppure anche ha permesso a molti di raggiungere risultati importanti magari rischia di non essere più quello che gli permetterà loro di fare quel salto quel salto in avanti beh sì per esempio io mi ero divertito tempo fa a fare a calcolare adesso non è il momento giusto di mercato però c'è stata una fase in cui era interessante calcolare le società che avevano i migliori multipli di mercato che avevano un cash flow soddisfacente e che erano state sottovalutate in borsa per diversi fattori e quindi avevano il miglior potenziale ecco erano una serie di dati incrociati tra di loro che alla fine evidenziavano i potenziali le potenziali stelle del futuro del quello dell'IA qualche mese insomma ecco è stata una mia curiosità un algoritmo questo te lo può fare però glielo deve dire una persona e l'idea viene dalla persona all'algoritmo non verrà mai un'idea innovativa no il frame lo deve sempre decidere un essere umano e magari ci arriva prima l'essere umano e lo può implementare anche magari può utilizzare l'algoritmo o uno strumento digitalizzato informatico per evidenziare per tirare fuori un numero ma è evidente che l'idea è l'idea che fa premio no è l'idea che ti fa dire quali potrebbero essere le società sopravvalutate no e che potrebbero scendere o sottovalutate o quelle che in qualche modo potrebbero avere una dinamica piuttosto che un'altra insomma però è l'idea di mercato che è frutto dell'essere umano o anche i portafogli se metti insieme dieci portafogli potenziali certo con la tecnologia è tutto più facile li metti in competizione tra di loro e vedi quelli che in diverse fasi di mercato possono essere più efficienti o quali meno però è tutta una cosa il tema è la tecnologia è lo strumento noi dobbiamo imparare ad utilizzarlo la sfida è questa poi su certe cose semplici l'operazione commodity come il bonifico lo fai col telefonino alcune cose che sono da commodity il consulente non le farà più si concentrerà molto di più su una serie di scelte strategiche di lungo termine o di gestione dei rischi e della criticità di breve periodo tipo appunto coronavirus se le borse scendono del 40% la relazione con il cliente quello è un valore aggiunto no la telefonata l'incontro anche a distanza quello è il valore aggiunto non la sottoscrizione del fondo come dire East Asia ex Japan oppure con Japan cioè no si può discutere ecco non so se sono stato chiaro sì sì assolutamente anche poi vedo che qui giustamente arrivano una serie di commenti no allora una cosa è certa ma questo penso che se ne siano reso conto tutti ma questo vale per ogni settore tutto ciò che si basa sulla tecnica oggi può essere tranquillamente sostituito con un algoritmo pertanto ciò che faceva la differenza prima tra un consulente finanziario e il mondo tradizionale bancario per esempio era sicuramente anche il fatto che il consulente finanziario mediamente poteva avere migliori competenze legato al tema degli investimenti dell'asset allocation eccetera tutte cose che oggi sono incredibilmente diventate una commodity grazie alla tecnologia detto ciò giustamente veniva fatta una considerazione prima da un da un ascoltatore da Andrea Maurelli dice ma consulente ausilio di algoritmo possono tanto e io la penso così cioè sicuramente avere a fianco la tecnologia è una sorta di boost mettiamola così a delle competenze che però ovviamente debbono esserci e che devono per forza di cose andare verso mi dispiace ripeto che non ci sia Luciano stasera ma che devono andare necessariamente verso la pianificazione finanziaria perché se no diversamente ci siamo incistati sempre sul tema rapporto costi benefici no di tutta la dinamica dell'industria quando in realtà la complessità dei problemi che hanno per esempio i singoli nel cercare di trovare di raggiungere determinati obiettivi chi se non il finanziario può farlo e ovviamente non può essere chiaramente un algoritmo quindi il tema è proprio questo quanto dicevo prima nel nostro imprinting culturale noi ci chiediamo se la consulenza può cioè se come dire la tecnologia può sostituire la consulenza no se invece tu dai hai un'altra mentalità e dai per scontata l'evoluzione in quella direzione allora il problema non è l'essere il problema è il come allora la concentrazione è come facciamo a ottimizzare il tutto a utilizzare il meglio per esempio adesso per come dire tranquillizzare e far contenti anche quelli che magari non hanno amato quello che ho detto però anche nel giornalismo l'intelligenza l'intelligenza artificiale sta facendo dei passi in avanti importanti cioè ci saranno algoritmi che scriveranno degli articoli e che ci solleveranno da una serie di compiti che sono diciamo ripetitivi cioè ci sono una serie di notizie diciamo commodity che trovi un po' dappertutto più o meno ognuno se la gira un po' a modo suo però più o meno sono quelle lì l'Ansa il Corriere Repubblica solo le 24 ore la stampa poi ci sono quelli che ora non è difficile che una serie di notizie da rullo di agenzie da commode quelle che hanno tutti facciamo fare o quantomeno a mettere a punto da un'intelligenza artificiale io mi concentro sulle inchieste sulle cose un po' più particolari sull'editoriale insomma tu ci stai dicendo che un editoriale o un commento non potrà essere mai fatto dall'intelligenza artificiale e invece i amici di Reuters stanno studiando anche sistemi di intelligenza artificiale per editoriali commenti inchieste approfondimenti di servizio per cose anche raffinate perché il confine non è noto e quindi c'è sempre il tentativo di superarlo poi possiamo dire che Montanelli scriveva in maniera straordinaria anche se alcune sue scelte di vita sono state discutibili e discusse o che altri giornalisti siano bravissimi a scrivere ad affascinarci o per esempio dei corrispondenti scusate ma io stamattina ho letto il pezzo di Beda Romano su Recovery Fund delle trattative è un pezzo con i fiocchi ti spiega ti fa avere proprio la percezione di quello che si stanno dicendo in queste ore perché lui a Bruxelles li conosce tutti personalmente quello è un valore aggiunto che un algoritmo non lo so cosa potrebbe fare anche perché potrà magari essere presente non c'è la percezione ma anche sono delle cose che sicuramente non potrà fare l'algoritmo tante le potranno fare e perché devo mettere perché io allora ma quale bancario vorrà mettersi a mettere i timbri come si faceva una volta no cioè ci sono dei lavori che non si fanno più non si fanno più chi vorrebbe chi vuole tornare a quei tempi è abbastanza inevitabile il mondo va avanti o decidiamo di continuare a discutere del se oppure iniziamo a discutere del come e credo che sia più proficuo almeno secondo me assolutamente Marco siamo arrivati al termine intanto ti ringrazio grazie a te grazie a tutti mi auguro di poterti riavere qua in trasmissione più avanti perché così insomma manteniamo senso Fiorouge anche perché avere persone come te ci consente anche di avere una visione anche dall'esterno perché poi è chiaro che ognuno di noi è sempre immerso in una sua bubble zone no questa grande bolla che magari ci c'è di conforto da un lato ma dall'altro lato magari ci permette non di vedere sempre in maniera oggettiva avere avere certe percezioni il pubblico ce le ha portiamoci a casa e a questo punto vediamo magari come correttamente dicevi tu cerchiamo magari di modificare alcune cose perché no scopo è questo lo scopo alla fine è proprio questo assolutamente assolutamente bene allora intanto grazie grazie a te adesso do spazio come sempre a Giuseppe Franco eccolo voilà vediamo se vi riesco ciao Giuseppe siamo orfani di Luciano il robot che sostituisce sono io l'intelligenza artificiale guarda Luciano non so prima o poco fa stava giocando con me qui a Carte ti ha fatto un bidone stasera quindi adesso si è no porca miseria veramente almeno mi avesse mandato un suo replicante porca miseria dobbiamo programmarlo insomma perché Luciano non è una commodity invece è una persona di cui abbiamo assolutamente bisogno ci sono state delle cose molto carine che avete detto tra l'altro sentivo parlare di bias insomma ho pensato poi al fatto della commodity il fatto che noi delle volte non accettiamo questo cambiamento perché si ha un'eccessiva fiducia in quello che sappiamo pensiamo di essere come al solito quelli che abbiamo visto sapere eccetera eccetera ma cosa succede quando un consulente sta parlando con un cliente che cosa fa delle volte si affida delle percezioni e poi succede che ci sono delle aspettative tradite di che cosa parlo tu magari incoggi una persona ok che da tanto io conosco tutto non faccio neanche le domande eccetera eccetera poi tu vai avanti questa trattativa alla fine nessuno dei due è contento perché non abbiamo fatto delle domande perché noi abbiamo pensato di saper tutto di conoscere tutto e quindi poi alla fine che cosa concludiamo nulla per tradurlo ad un esempio mio immagine Enrico di essere che ne so in una sala da ballo e tu incontri una vecchia amica ok che ti dice ciao Enrico scusami vorrei ballare però non mi sento tanto in forma però mi affido a te ok e sarebbe il tipo e tu dici non ti preoccupare vieni pure con me che tanto conosco io dei balli per donne incinte allora tu in quel modo poi scopri che lei non è incinta e quindi fai una bella figura come si dice con i vostri termini una sterk option cioè un option di sterco e quindi in quel caso hai fatto una scelta sbagliata non ti preoccupare vieni pure con me quindi hai sbagliato frame per citare quello che diceva Marco perché hai scelto comunque una cornice diversa e il commodity in senso in questo caso diventa praticamente un comodino che ti lancia addosso perché tu non hai hai praticamente ti sei basato sulla tua percezione e quindi questo è quello che succede molte volte abbiamo proprio questa sensazione Marco prima parlava dei commenti parlava per esempio della cucina di redazione immagino che lui si riferisse a quello delle piccole notizie che tu devi rifare di scrivere che ti può fare comunque un computer e noi no lo sappiamo so io come si fa questa cosa poi invece scopriamo che non è così e diciamo a una persona che è incinta invece non lo è bene bene grazie mille grazie veramente allora come sempre vi rinnovo l'appuntamento lunedì prossimo alle ore 18 sempre qui e anche su LinkedIn a Dio piacendo perché mi viene da dire che speriamo che LinkedIn ci permetta di trasmettere lunedì prossimo con la puntata del podcast dell'imprenditore produttore podcast è venerdì prossimo per una nuova puntata di hashtag la consulenza non si ferma con me e Luciano perché voglio dire e con un ospite però non voglio rivelarvi assolutamente nulla perché sarà un ospite che è assolutamente molto conosciuto la consulenza finanziaria ma è assolutamente ingambissima e bravissima ho già svelato qualcosa si tratta di una donna non si tratta di un uomo e che dire al solito 3, 2, 1 e sigla e